Allora, profitto della presenza del Ministro Lamorgese chiedendole di poter tornare al più presto qui in Aula per riferire su quanto è accaduto questa mattina all'ingresso del carcere di Santa Maria a Capovetere. Vede, stiamo vivendo una situazione surreale, anzi credo che abbiamo inaugurato con questo Governo la terza fase della Repubblica, la Repubblica Surreale. Dopo le rivolte che vi sono state, alcuni mesi or sono, e che alla fine hanno determinato anche l'uscita dal carcere di oltre 500 criminali e di cui oltre 300 mafiosi, oggi sono stati notificati alle vittime, non ai carnefici, gli avvisi di garanzia per quanto riguarda le responsabilità eventuali o supposte nella rivolta. Alla Polizia Penitenziaria sono stati notificati dall'arma dei carabinieri. Non solo, la modalità è stata qualcosa di veramente squallido e le disposizioni sono certamente venute dall'altro perché i colleghi dei carabinieri non avrebbero mai mancato così di rispetto. Un posto di controllo e fermati come dei criminali delinquenti, i colleghi della Polizia Penitenziaria, e notificati sulla strada. E' una vergogna, è ora di finirla. Bisogna riportare il senso del giusto e dello sbagliato, del bene e del male nel suo alveo naturale. Grazie, è una cosa assurda e inaccessiva.